Ciao ragazzi, oggi vi mostro un aereo ma vedete talmente grande che devo assolutamente spostarmi è un aliante, è il Titan della Air Hogs ha un'apertura alare, come vedete di oltre 1 metro e 20 centimetri ed è in grado di volare fino a 45 metri quindi mettiamolo subito in azione è possibile cambiare la direzione dell'ala del Titan in questo modo come vedete c'è un incastro in polistirolo fatto apposta che mi permette di variare l'inclinazione dell'ala cambiando l'inclinazione della stessa il Titan dà un volo diritto fa un volo come vedremo a giro della mat mettiamolo subito in azione uomo contro aliante povero vai